C'avevo messo un anno per chinarmi su quella lettera. Io ci vado. No. Dieci anni per afferrarla. E tutta la vita per leggerla. Non è facile vedere un padre che muore. Livia, io non ho mai avuto un padre. Il tuo padre era sicuro che saresti venuto. Aveva una cosa molto importante da dirti. Lui si chiama Fish and Cheeps. Lo conosco da quando ero piccolo. Vuoi farmi credere che stai pensando di tenere con te quel bambino? La vita mi ha insegnato che le cose non cambiano mai. Cambiamo noi. La vita mi ha insegnato che le cose non cambiano. La vita mi ha insegnato che le cose non cambiano. Ma per chi ha insegnato che le cose non cambiano. ChiamaOP.